L'ispirazione nasce dalla ricerca di quell'elemento d'arredo con cui condividiamo la maggior parte delle nostre ore quando siamo in casa e in viaggio. Da qui nasce l'idea di progettare il letto 8. Oltre al necessario comfort ergonomico, trovavo indispensabile anticipare questa sensazione di benessere con un altro senso, la vista. Da questo ne nasce una struttura con un aspetto estremamente morbido nella testiera che grazie alla sua generosa imbottitura e al taglio orizzontale della pelle dona al letto un aspetto molto soft e crea delle soffici increspature. Per il basamento, anch'esso in pelle leggermente imbottito, ho cercato di donare un aspetto leggero, quasi aereo, con le gambe che sono distaccate dal giroletto e impreziosite da un piedino in ottone spazzolato. Il letto 8 è ideale per un ambiente domestico, ma grazie alla sua struttura leggera ma resistente, può essere adatto ad essere utilizzato anche in ambienti come gli hotel. Grazie a tutti.